Ciao a tutti! Ciao! Ringraziamo Gianluca Valeriano che ci ha taggato e ci ha dato quindi la possibilità di aderire a questa campagna promossa dall'atroce rossa italiana. Anche la giunta comunale di Siracusa vuole in fatto partecipare per darvi oggi un messaggio molto molto importante. Prima di partire... Allacciamo le cinture! Buon viaggio! Ciao! Ciao!